Ciao, hai presente Polar Express, la storia scritta da Chris Van Alsburg, diventata anche un film d'animazione nel 2004? Beh, un treno che replica l'esperienza della fiaba di Natale esiste davvero. I treni per il polo nord sono gestiti da rail events, partono da 50 diverse stazioni, per noi italiani però la più vicina è in Gran Bretagna, quindi un po' lontana da raggiungere. All'arrivo al polo nord ci saranno Babbo Natale e i suoi aiutanti che saliranno sul treno per salutare le famiglie e consegnare ai bambini il loro primo regalo di Natale, ovvero una campanella d'argento proprio come quella ricevuta da Chris nel film. Oltre a rail events anche altre compagnie ferroviarie e musei ospitano viaggi a tema Polar Express. Ricordate un piccolo dettaglio però l'abbigliamento consigliato per salire al bordo del magico treno è un caldo pigiama. Noi ci vediamo domani, have a nice life!